ben tornati ragazzi sul mio canale oggi continueremo l'evento natalizio di rocket league la seconda parte in compagnia di turbo one salve ragazzi un po in ritardo prove buonasera ecco andiamo avanti con l'evento naturalmente preda non giocherà con noi ma farà su lui sarà la nostra forza spirituale sarà l'anima della squadra sarà cheerleader allora 2v2 competitivo giusto boh che mappa di merda confondi i colori perché sono dal tonico ecco perfetto è questa la mappa natalizia sperando di vincere sperando di vincere e di che non mi rubino anche un turbo attenzione no niente zero sono passato attraverso tipo sette mondi di gambol e alla fine sono uscito con una palla torna ecco ci serviva il commento di preda attenzione penso io buono porco prendi a te luke non rubare di sapere che io sono talmente poco che non ho ancora preso non ha preso un case quindi va bene e io non ci arriverò mai in fondo no però dai se siamo ci siamo salvati uso quello di cartone io giusto quello da 10 centesimi della scatola di cereali oh godio che best che hanno tirato vai 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 aspetta eh ma dai mi rubano tutto il nitro figa l'ho preso come ho fatto adesso me la prende ci avrei scommesso te adesso perdiamo 1 a 0 e va a vedere e infatti non la prenderò mai nella mia vita vicino alla porta ma what the fuck adesso 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 dio car ma quanto cazzo sono veloci questi ma sto scherzando vai via no 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 grande luke come sa cazzo ok vai luke te la mando era per dire naturalmente grande luke me itz can u assist for me no descritto gli senti in squadra penso io lol iciency in squadra lol va bene mongolo lo sapevo già che la tirava alta perché ormai è solo cosi che fanno Non l'ho toccata allora Bravo Luke Finte del secolo Attenzione Palla da solo Tutto turbo Tutto turbo Ragazzi qua quando hai la pro Ag nel culo Vedete cosa si può fare I need 3 goal for game Ok new assist PH So so go Attenzione Questo qua adesso va in attacco No 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 Come cazzo Dio caro non ci credo No e Oddio ma le nitro è così potente adesso Ma ha spinto indietro No merda dietro dietro Luke Dove uscite questo Ma che cazzo Vai Luke Tira Si Raga Squadra dell'anno Luke No cos'è che era Sono le finali queste Tu Luke Ci chiamiamo tu Luke La squadra del mondo No oh oh Minchia ha fatto un mega lag Madonna No no mi cazzo giuro No Luke Grande Luke Ci penso io No non è vero Quante volte avrei detto Luke 10 Luke Adesso 11 Luke Adesso 12 Menni una Luke Non ci provare Ah guarda 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 Domani va al bar Mi scusi voglio un Luke E aiuto Sto laggando un pochettino adesso C'è quei mini frame di lag Nel video si vedranno Ma ragazzi Non fateci caso No ok Sto veramente facendo i mini lag No dai Quello Penso io Ma che cazzo Si ma non ha palleggiato No schifoso essere umano dai Ma cosa Dio caro non ha palleggiato Filo tirato Non ha palleggiato Guarda Vuole fare camera Tu rubi il processore Ma cazzo Adesso vaffanculo Gliela tiro in bocca Figa No Rag cos'è successo No Ma cosa cazzo fa Ma dai ma Ma ha laggato Ma vaffanculo All'ultimo Ha fatto 3 secondi Zero Basta Finito Ma cazzo Fiocco di neve per sete Ma vai affanculo Ma Mandriano Mandriano Nuovo capello ottenuto Ma va Cassa rara Turbo Cioè io non ci credo Giuro figa Non ci credo Dio caro Hanno vinto per Puto figa E' uno sputo viventi Dio caro Per cosa Per cosa Per cosa Per una porca Per uno sputo figa Ragazzi hanno vinto Per uno sputo Ok siamo già arrivati Immediatamente Ui cazzo stellari Siamo appena arrivati Alla seconda partita Sempre contro quelli Sto laggando Non è Ok Calcolato Va bene Non ho visto cosa è successo Ho visto che ho fatto un lag Supremo Ma sono ancora loro Sei sicuro Certo Il codice a barre E l'elmet Ah Interessante Il codice a barre Ma se ci penso io Siccome adesso lo condifichi Che c'è un problema nucleare Ci penso io What the fuck Luke Dove sei uscito Sorry Luke Sorry Luke Ma quello è la tua macchina Solo che è rossa Sto volando Luke attento dietro Luke attento dietro No 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 Grande Luke Riesco a prenderla E invece no Perché loro sono più veloci di me Visto che sono in due giusto La logica di Ma che Eh ma perché Ma cosa Dai tira ora Grande Luke Belle Metti in mezzo Ci sono sti lag di merda Spero che non si vedano nel video Perché se no Ma si vedranno di sicuro Tranquillo Eh Se no non si vede più il gameplay Perché io sto laggando Tra poco Mi esplode il pc Se no faccio il video Col pentium Col pentium Uno Ho segnato E mi son visto La macchina In alto Bloccato Poi hai visto Hai tirato in porta Gol Ti la sono spaccato il controller Dio caro Che gol che ho fatto Bella Don't for late We have a chance Qualcuno Ma non sono quelli di prima Vedi Quello da barre Sembra ma non è lui Era più lungo Infatti Abbiamo una chance Luke Credo di no Il più caro Dio caro No ma aspetta Ma che ca... In due figa Uno che mi picchia di là Un altro che mi picchia di là Merda Questa è la vendetta Della nostra squadra No Vai Luke Tutta tua E te Arriva in più E ciao No 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 lag Lo lag Ti prego esci Grande Giovi Giovanna Aaaaa Col cazzo che fai gol Sì ma sono handicappati Ho sbaglio questo Ma Vai Luke Vai Luke Vittoria Buona adesso lo abbandoneranno Ragazzi Quindi vuol dire che Il video finirà qua E' un minuto e 48 Dalla fine Dai Adesso ci penso io Faccio gol Ragazzi Gol stupendo Mamma mia Impennata finale Proprio Ma veramente Ops Scrivo Ops Ma quanto è bello Lol Aspettate Io non so perché Non riesco ad andare Devo fare una kill Ecco Ehm Ma Che non ci credo eh Ma Mascara ha inventato fuori dal cazzo Figa C'è Sono postato dritto io Bello Ho preso anche la pole Sono postato dritto Bellissimo No no Bellissimo Rocket Grazie Maledetti Lol Gol Ma vaffan Ah Ragazzi Qua Se tirate troppo forti Rocket vi dice No Non vi faccio far gol Basta Ma se voi tirate troppo piano Vi dice No Non puoi fare gol Ecco Quindi bisogna trovare un equilibrio Tra queste due cose Perché se no E Luke è capace di farlo Io Ehm No Io vado di Di fortuna Eh ma io sto laggando Io sto laggando È di merda Merda È in fase Neuto Dai Non ci credo Non l'ho presa Piano 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 Ok Ah Eh ho capito Però Andi Luke Ma Oh ma questo sarei l'avversario Non è valido È contro le regole di Rocket Vai Luke Ma cosa Puoi solo farlo esplodere L'unica cosa Non puoi darla esplodere No è vero C'è colpo bigliardo Colpo bigliardo Tradotto Praticamente Tu prendi con una persona C'è quel tuo nemico No 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 Ecco Ok vai Con un nemico Tu Tiri il nemico E fai gol Cioè fa l'auto Cioè tiri il nemico E poi Allora praticamente Tu con la macchina Tiri il nemico Il nemico Prende la palla E che fa gol Poi il tiro a biliardo Ma perché Ops Go B1 Away Scrivi se se No mi se Boh Se mi se Mestri in Versione Dico Ma cazzo Inversione Mamadou Tiri il nemico Tiri il nemico Inversione Mamadou E infatti A posto Scriviamo Noob Perché noi siamo I primi nabbi Sì come no E niente Ho detto questo Registri ancora Oppure No io diciamo Che staccherei qua Ragazzi Ma sì Per Mamadou Per Mamadou Ma salete tutte Maledetti Essere viventi Oh Che chiamo Mamadou Che un Mamadou No 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 Scherzavo Allora Comunque Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Ragazzi Dite sempre Un bel like Iscrivetevi se volete Ovviamente E commentate Se volete Ovviamente Buon Natale Perché quello Esatto Ci sta un voto Buon Natale Da Luke Da Turbo One E dal nostro amico Venditore di pollo Preda Ecco Che lui è vicinale E niente Adesso Prima di finire Il video Continueremo Sicuramente Una terza parte Perché La terza parte Si vuole sempre Si si vuole sempre Però prima di Togliere il video Devo fare decodificatore Adesso lo prendo E apro una cassa Vediamo cosa ci esce Quindi Diciamo che è un spacchettamento Rocket League Diciamo che è un clickbait Ecco Un clickbait Vediamo che posso comprare Un bel niente Però dai Ho guadagnato su delle Belle ali d'angelo Devo avere Cassa Turbo Ne ho solo una Allora Usa codificatore Ragazzi La Endo è lì sopra Si Prendo la Endo Ringrazio Babbo Natale Ma mi sa che Attenzione Ezza No Ho preso le Septem Per volte è molto raro Niente da fare No niente Vabbè dai Ho preso le Senta Sarei più fortunato Eh vabbè ragazzi Sta È una cosa buona Sono belle Comunque Ribadendo Il tutto Ci vediamo al prossimo video E Ci vediamo per la terza parte Salla Salla Alla prossima Ciao Alla prossima Grazie a tutti.